Abbiamo fatto più di un commissario in 50 giorni, abbiamo fatto un sacco di cose in 50 giorni. Abbiamo lavorato sull'emergenza, abbiamo aperto strade, abbiamo dato case agli sfollati, abbiamo rimosso le macerie, abbiamo fatto molte cose. Oggi arriva anche il commissario per la ricostruzione del ponte, è una scelta, credo, molto condivisa e molto sensata, quindi buon lavoro a Marco Bucci. Gli enti locali sono entrambi interessati dalla gestione della città, come è giusto che sia. Resta in capo alla Regione il commissariato per il superamento dell'emergenza, con la gestione della zona franco-urbana, con gli aiuti alle imprese, con tutto quello che riguarda le infrastrutture cittadine. Il sindaco potrà concentrarsi sulla ricostruzione del ponte, credo che sia un riconoscimento a ruolo ben fatto dagli enti locali in queste settimane e un riconoscimento alla città per la scelta del suo sindaco.